La provincia ritorna protagonista con l'arrivo del Presidente Bernardo Rodis Poto, abbiamo colto subito l'occasione delle zone ZES, la provincia sarà l'ente capofila di questa grande operazione che vede coinvolti i comuni di Trani, il comuno di Trinitapoli, di Spinazzola e di San Ferdinando, costituendo un grande progetto e che ci vede coinvolti in quanto ente capofila. Bisogna ringraziare comunque il comuno di Trani che è stato colui il quale ha voluto coinvolgere la provincia e un ringraziamento anche alla struttura dell'architetto Mauro Jacoviello che sta portando avanti questo progetto. Il 21 si firmerà il protocollo di intesa e saremo pronti per partecipare a questo grande provvedimento che è la richiesta di una zona ZES agganciata all'area portuale di Barletta.